Si potrà visitare fino al 14 maggio presso la saletta Ortobene in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro la mostra itinerante regionale AIFO 2016. L'evento benefico è stato inaugurato ieri mattina alla presenza del sindaco Andrea Sudio e del presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Becu. Un'iniziativa promossa dagli amici italiani di Raul Follerò della sezione provinciale di Nuoro presieduta da Armando Manca in collaborazione con l'AIFO regionale. Lo spazio espositivo ospita una serie di opere artistiche, foto, manufatti realizzati anche nella regione tropicale, consegnati da artisti che li hanno messi a disposizione dell'AIFO. Infatti l'eventuale ricavato verrà utilizzato per realizzare un progetto di cooperazione sulla salute materno-infantile in Guinea-Bissau, un paese poverissimo in cui c'è un'altissima incidenza di donne morte per parto, 800 su 100 mila abitanti, contro una media di 5 in Italia. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi sanitari fornendo farmaci e sensibilizzando la popolazione. Un progetto che si inserisce pienamente nella filosofia operativa dell'AIFO di Nuoro e dei suoi volontari che si occupano degli ultimi della terra organizzando in occasione della giornata internazionale della Lebra la manifestazione del Miele della Solidarietà. Alla mostra artistica è stato affiancato un progetto sulla disabilità che si pone attraverso un percorso di immagini di sensibilizzare i suoi problemi e le difficoltà delle persone con problemi emotori. Il titolo è Diritti accessibili e la partecipazione delle persone con disabilità per uno sviluppo inclusivo, un'iniziativa realizzata dalla Rete Italiana di Disabilità e sviluppo col patrocinio del Ministero degli Esteri.